Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie, siamo qui come sempre con Walter Grubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti quanti. Appuntamento numero abbiamo segnato? Direi 175. 175. Quest'oggi ci spostiamo proprio dall'altra parte della città rispetto a dove siamo noi più o meno. Noi siamo in zona San Siro, sorvogliamo la città, andiamo lungo la Martesana, in fondo ai confini della città e atterriamo in quel di Crescenzago. Nel nord, diciamo così, nord-est della città. Chi ci ha portato oggi Walter? Allora oggi abbiamo una persona direi significativa anche nell'ambito di questo centenario degli antichi comuni milanesi quindi che ci hanno fatto scoprire un po' quella che è la realtà complessiva cittadina e abbiamo Giuseppe Bresciani con diciamo così due elementi di valenza uno che è la sua attività imprenditoriale Bresciani-Fabbro in Crescenzago che è ormai una tradizione che è data da circa il 1920. L'altra invece è il presidente del corpo musicale di Crescenzago che invece è data dal 1894. Quindi sono due realtà profondamente innervate in quelle di Crescenzago questa parte è appunto antico comune che è attraversato dal naviglio Martesana. Insomma Bresciani è un luogo che è importante per Milano, appunto un antico comune un luogo che ancora oggi vive molto del suo essere un borgo in questo caso comunque c'è chi è di Crescenzago è di Crescenzago. Chi è di Crescenzago è di Crescenzago. Io sono andato in via Padua a 223 e penso che le mie ceneri siano messe nel naviglio Martesano. Ah ecco, faremo un funerale vichingo sulla Martesana. La confonerà ne più sulla Martesana. Facciamo così, facciamo. Tant'è che sulla Martesana praticamente ci vive da sempre e ci lavora anche. Nel giro di 500 metri quadri ho vissuto gli ultimi 74 anni. Com'è cambiata però questa Martesana in questi anni? Ma sai io non mi sono mai reso conto di quanto è cambiata però è cambiata, qualcosa è successo negli ultimi 50 anni. Io mi ricordo, sono ricordi di quando ero giovane che si giocava nei prati, c'erano più prati adesso c'è più case che non riesco a capire come mai tanti palazzi vuoti da 10-20 anni a cosa sono serviti. Però è una mia idea. Sono nato lì, sono cresciuto lì, vivo lì con la banda Crescenzago la portiamo in giro a suonare in tutte le località di Crescenzago e anche nonno. Infatti perché attenzione, da Crescenzago si sta lì, si vive lì, si abita lì ma poi le sue attività la portano ben oltre Crescenzago. Da una parte la Bresciani Fabbro di cui anzi abbiamo qui anche un bellissimo libro che racconta la vostra storia praticamente ovunque nel mondo. Sì, è vero, comunque nel mondo io non ero tanto d'accordo a fare questo libro perché penso che i libri si fanno a memoria. Io sono ancora vivo, spero di vivere ancora qualche anno. Però, diciamo, ricordiamo le generazioni precedenti. Però, Ferdinando Scala ha due anni di pressing ho ceduto ma sono contentissimo di aver dato l'approvazione per questo libro. E anche con la banda di Crescenzago andate praticamente ovunque con quella invece. Andiamo ovunque, andiamo anche è una battuta mia, no? Mi sono trovato col direttore del Trotter che è a Turro gli ho detto io sono di Crescenzago per venire a Turro mi fai passaporto? Vedremo. Vedremo, poi se ti sottolineo per Turro dai non fare il pirla così. Perché a qualche punto la musica della vostra banda va praticamente ovunque nella nostra città e non solo. È importante appunto la realtà che ha voluto portare oggi Walter proprio per ricollegarci un po' a quello che dicevamo, che abbiamo raccontato in tutto l'anno scorso, no? Il centenario di antichi comuni e un po' anche per raccontare e ricordare quelle realtà che centenarie continuano a vivere sulla nostra territoria, nei nostri quartieri. Sì, diciamo che sono la traiettoria che ha attraversato Milano in questi cento anni e cioè da quando Milano era arrivava all'incirca la circonvallazione e dopo il 1923 invece ha più che raddoppiato il suo territorio ma ha raddoppiato più che raddoppiato il suo territorio ma ha anche acquisito tantissime comunità che hanno una storia millenaria e questo è il punto nevragico di tutta quanta la vicenda milanese perché quando si dice ah ma se non si ha memoria dov'è che si va ecco allora tutte queste realtà che erano preesistenti al 1923 che quindi con il convegno riconoscimento che è stato promosso dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano e dal Tavolo Periferia Milano lo scorso 21 febbraio è stata proprio la volontà di riconoscere queste realtà perché queste devono essere conosciute dalla città perché con il loro portato di storia possono dire guardate che eravamo qui e oggi siamo qui quindi con gli elementi positivi e anche negativi che ci sono stati nello sviluppo della città possono essere una testimonianza in maniera tale che si possa anche lavorare su dati certi e non solamente su idee, mezzi idee, presunzioni che poi portano a poco portano solamente a fare esperimenti che rimangono lettera morte invece la città deve crescere e appunto abbiamo riconosciuto realtà sportive realtà imprenditoriali, realtà educative insomma un panorama piuttosto ampio e abbiamo portato questo libro perché attraverso i libri possono essere presentate esattamente queste storie ma più che storie queste realtà concrete che operano ecco questo qui è un pochettino il punto di cui deve farsi carico un po' la comunità educante di Milano a partire sicuramente dalle scuole che abbiamo visto hanno un lato debole fondamentale perché la storia di Milano dal 1873 quando il comune di Milano era meno di 9 km quadrati e quindi il centro storico nella sostanza al 1923 quando è diventata quella che adesso con 181 km quadrati ecco questi 50 anni di storia non sono insegnati e non sono conosciuti nemmeno dai milanesi ai milanesi autoctoni e sappiamo che invece ci sarebbe tanto da dire c'è anche tanto materiale noi abbiamo visto, siamo stati a Niguarda la cittadina degli archivi lì c'è del materiale che è oro per questo racconto cioè veramente può insegnarci tanto e può farci capire anche magari la direzione da prendere in un futuro anche guardarlo a quello che è stato e quello che potrebbe essere passato il futuro che si incontrano perfettamente però in questa pubblicazione mi viene da dire, no Giuseppe? siamo arrivati già alla quarta generazione di Bresciani Fabro sì, la quarta generazione perché tutto nasce con tuo nonno, giusto? tutto nasce con mio nonno intorno al 1900 ok, Saverio? Saverio comunque anche lui, sempre di Crescenzago era la prima officina mi sembra di ricordare via Padova 191 poi in Cesarotti, poi 223 poi io in Paradisi e poi in Samamete dell'84 quindi dopo sono poi passato a tuo padre da tuo padre a te e adesso ci sono i figli adesso ci sono i figli sono l'idea di andare avanti sì, sì, ormai sono già inseriti ah, vedi insomma, questo è interessante perché appunto una figlia e un figlio una figlia e un figlio che porteranno avanti ma io ho due femmine una comunque si è trasferita da Ascoli ah, ok quella va bene non seguirà comunque è collegata ah, vedi, comunque non si stacca il cordone ombelicale con Crescenzago non si stacca anche da Ascoli rimane collegata è un punto interessante perché fa capire come un luogo e un'azienda come la tua possono essere testimonial e testimonianza soprattutto di tutta una storia che non va perduta e che può essere invece rinnovata sono d'accordo soprattutto in questo momento vedo che mancano la professione e l'insegnamento e i lavori manuali ok noi collaboriamo con una scuola professionale lì vicino che ci manda i ragazzi due o tre mesi negli ultimi due o tre mesi noi gli insegniamo la fiancata agli operai gli insegniamo a saldare a fare i lavori da fabbro però mancano, è poco è un cerino in mezzo ce ne vorrebbero di più perché si sta perdendo proprio i lavori manuali nessuno vuole più sporcarsi tutti forse grazie a internet grazie al telefonino non riescono più a fare più di tanto che non smanettare sul telefonino vedere gli altri cosa fanno nessuno si mette in discussione tu hai la prova che qualcuno però invece c'è perché insomma questi ragazzi sono super giovani ma giovanissimi arrivando a te qualcuno si appassiona poi sì sì io ho dipendenti che sono lì da 20-30 anni ok qualcuno che si inserisce l'importante è crederci io dico se venite a lavorare mattino già col mal di testa che non vi piace quello che fate non va bene trovatevi il lavoro che più vi piace fare allora sì e vi adoperate per crescere se no è solo una perdita di tempo per tutti e questo può succedere anche in un lavoro magari così faticoso e manuale come il vostro però sì il lavoro manuale sì come il nostro ma deve piacere può appassionare però noi siamo artisti ah questo è interessante questo è interessante scusa è un'arte la vostra è certo che è un'arte cioè se tu apri la prima pagina c'è una cosa una no no questo qua le lo passo le lo passo le lo passo a Giuseppe così poi ce lo fa vedere questa è una frase da leggere allora leggiamo la frase dov'è che è qua chi lavora con il cervello è un professionista chi lavora con le mani è un operaio chi lavora con il cuore è un artista chi li usa tutti e tre è un artigiano eh beh insomma chiaro ed è questo quello che vi muove ogni giorno giusto 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 è questo che ci muove ogni giorno soprattutto nella speranza che anche anche come dipendenti così collaboratori che riescono a crescere i giovani per portare avanti questi lavori qua sì qua questi lavori che sono in varie località disseminati noi li troviamo solamente a Milano i nostri lavori o i lavori i lavori i lavori esattamente ah beh sì quando io ho cominciato nel 76 come Bresciano e Giuseppe ho sempre cercato di collegare anche tutti gli altri artigiani che facevano il nostro lavoro perché mi sembrava stupido che tutti compravano una piegatrice che ai tempi costava 100 200 milioni ne compravamo una e li usavano tutti oggi tutti hanno le piegatrici non c'è l'inserimento di tutti lavoriamo per uno scopo preciso oggi tutti lavorano per sé ma purtroppo non ce ne è non ce ne sono rimasti pochi di fabbro mi diceva un mio amico che ha la ditta vicino a noi dice per te oggi è più facile quando sei partito c'erano nove fabbri nella nostra zona adesso sei solo tu perciò tutti siamo costretti a venire da te sì però c'è anche a dire che l'unico che è rimasto non era così facile ma io c'ho creduto infatti c'è anche tutto il mondo e continui ancora a crederci ogni giorno se poi avevate qualche dubbio sul fatto che Giuseppe fosse un artista c'è anche la banda invece c'è anche la banda quindi lì proprio l'espressione artistica per eccellenza la musica scusa in qualche concerto ho portato alla mia incudine perché mi so io sono ignorante in materia però c'è qualche opera lirica che c'è l'incudine che bam 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 e noi l'abbiamo portata quindi è unito queste due passioni come va la banda di Crescenzago come è nata questa passione per la banda di Crescenzago ebbè è nata perché quando ho iniziato come fabbro io sono stato molto aiutato dai commercianti da Crescenzago allora mi sentivo in dovere di aiutare la banda di Crescenzago nel tempo perché ripeto ma sono di restituzione una gratificazione ripeto io sono di Crescenzago è per esempio l'emozione che ti prende nel raccontare questa storia io mi emoziono solo quando si parla di Crescenzago e della Madonnina e basta salutiamo i figli gli altri sono tremendo mi dicono mi dicono sono tremendo però vedi dietro un incudine così forte c'è un cuore così tenero ovvero sicuramente quindi Crescenzago e la Madonnina come mai questo milanese Crescenzago è proprio una cosa viscerale ma c'è anche un aspetto abbastanza significativo che risale a Don Bigatti che allora facciamo un attimo infatti una piccola seconda guerra mondiale giusto? esattamente ma faccio una piccola parentesi personale perché uno dei testimoni di mio matrimonio Nindo Zerlotin appunto era di Crescenzago e quando lo incontrai le prime volte siamo di Crescenzago ma dov'è questo Crescenzago per cui parliamo di 50 anni fa insomma all'incirca questi quei tempi dopodiché ho avuto modo di e lui era in un gruppo ciclistico che c'è tuttora che sono in pratica i ragazzi di Don Bigatti che viaggiano in giro per i santuari di Europa quindi in tutto il mondo delle in tutta l'Europa appunto dei lunghissimi viaggi in bicicletta e lì questo Don Bigatti è un personaggio significativo che vale la pena raccontare brevemente è una storia famosa importante per Milano poi raccontaci la parola di questo Don Don Bigatti è quello che durante la seconda guerra mondiale ha fermato i tedeschi che volevano sparare i partigiani ecco io la so così sul ponte del Naviglio è per quello che c'è la madonna delle liberazioni ecco perché sì anche lì c'è infatti un quadro importante cioè questo Don Don Luigi è riuscito a far fare diciamo un attimo di tregua alle due fazioni per cui i tedeschi sono riusciti a uscire dalla città senza essere creati di colpi dai partigiani e viceversa i tedeschi non avrebbero aperto il fuoco sui partigiani si è evitato sicuramente uno scontro che si sarebbe potuto ricordare in ben altra maniera invece Don Bigatti per cui è una figura storica di Crescenzago e a ricordo di questo appunto poi Bresciani Fabbro ha diciamo così sponsorizzato anche la sistemazione di questa di questa cappella che c'è sui muri proprio sopra il il Naviglio Martesana vicino a Piazza Costantino Piazza Costantino che è la sede dell'antico comune di Crescenzago qui dentro troviamo Lampi troviamo Legambiente e la banda di Crescenzago insieme a casa Crescenzago complessivamente parlando che ecco questo è uno dei temi quindi abbiamo un luogo che era il servizio alla in questo caso al comune alla collettività di Crescenzago e oggi continua a mantenere questo tipo di servizio proprio per queste realtà che ci sono presenti e svolgono tutta una serie di attività con oggi quello che è il quartiere di Crescenzago c'è un un problema piuttosto grosso perché il comune di Milano nell'ambito della dismissione dei patrimoni e quant'altro ha messo in vendita anche l'antico comune di Crescenzago è ancora in vendita al momento è ancora in vendita questo non si sa noi continuiamo a pagare l'affitto normale come se niente fosse successo però c'è questo tipo di problema che è un problema che noi abbiamo anche posto come decalogo dalle periferie per ripartire che è quello dell'utilizzo dei beni comunali da parte delle associazioni culturali ricreative sociali che svolgono tutti quanti dicono ma che bello è importante quello che fate dopodiché però quando queste sono presenti in luoghi comunali hanno una serie di difficoltà perché la regolamentazione che c'è vale per quello che esiste il patrimonio in Galleria Vittorio Emanuele piuttosto che a Crescenzago o da altre parti ecco allora proprio questo centenario degli antichi comuni milanesi ci ha fatto riconoscere una città che è completamente diversa dove quelli di Crescenzago non sanno quello che c'è a Chiaravalle piuttosto che a Musocco e questo qui il tema importante della scuola che faccia conoscere quella che è la geografia della città nel suo complesso perché noi conosciamo la Dora Baltea e la Dora Ripari affluenti che sono del Po solamente che se uno dice vabbè ma il Naviglio Martesana sì chi c'è sopra lo conosce e chi non c'è sopra non lo conosce e questo qui è un di meno perché se dovesse andare sul Naviglio Martesano proprio che parte da Greco quindi via Melchiore Gioia e arriva fino a Crescenzago nella sostanza ecco tutto un percorso tra l'altro protetto dove l'urbanistica almeno lungo il Naviglio è rimasta sostanzialmente simile in questione con tantissime ville che ci sono ecco da questo punto di vista allora abbiamo fatto un'iniziativa le giornate periferi Artme antichi borghi nuovi quartieri della periferia che riprendono proprio questo fine settimana 15-17 di marzo quindi per tutti i terzi fine settimana del mese prossimo aprile dove cerchiamo di far conoscere questi 166 toponimi diversi della periferia milanese attraverso le cose che ci stanno sopra e tra le cose che ci stanno sopra da quest'anno ci sarà anche Bresciani Fabro e quindi la possibilità di vedere il Naviglio di affacciarsi sul Naviglio Martesana da una fabbrica che è tuttora esistente come anche tante altre iniziative che ci sono abbiamo più di 20 appuntamenti questo fine settimana potete vederli sul sito periferiartami punto it cosa un modo per innamorarci di Crescenzago cosa ci consigli Giuseppe girarlo venire lì girarlo perché è un borgo c'è la chiesa di Santa Maria Rosa c'è una cappella dietro via Adriano dei Lazzaretto via Lazzaretto con una cappella le vie vecchie le vie vecchie ma le vie vecchie è un borgo è un borgo uno viene al borgo vedrà che dopo non giustamente il consiglio di Walter ricordiamoci che noi se partiamo da Greco praticamente arriviamo fino lì in pista ciclabile pedonalizzata tranquilla lungo le sponde della riglia Martesana da via Le Monza si arriva facilmente infatti con la ciclabile che passa lì sotto si respira aria buona non lo so il parco diciamo che Martesana tra parentesi togliamo un mito l'acqua non è inquinata non è sporca l'acqua dell'Adda ecco infatti sono acque importanti insomma ci costa niente ma c'è anche un percorso per certi aspetti uno parte da via Padova si e va e va e va e attraversa esattamente perché via Padova è più di 5 km come lunghezza credo che sia la seconda via più lunga di Milano dopo via Ripamonti e quindi ecco uno può vedere la trasformazione che c'è la stratificazione sociale cioè e questo è un modo di vedere e noi invitiamo anche le scuole a fare la didattica sul campo perché un conto è stare a parlare a sentire quello che dicono i giornali radio a televisione e così via un conto invece è mettere i piedi sul terreno e andare questo e si arriva appunto a Crescenzago con appunto anche l'abbazia di Santa Maria La Rossa che è un luogo proprio spettacolare quanti sanno che c'è questa cosa ma comunque eventualmente se non volete fare via Padova tutta piedi uno può scendere dalla fermata della metropolitana verde di Crescenzago e quindi che non è proprio però anche lì non è proprio è Crescenzago la fermata verde di Crescenzago sì perché via Palmanova ma lì era Crescenzago ok dal confine diciamo dalla parte di là perfetto diciamo che Crescenzago oggi con la nuova organizzazione con la nuova organizzazione amministrativa in municipi e diciamo così a cavallo supergiù tra il municipio 3 e il municipio 2 la grossa fetta è il municipio 2 da questo punto di vista però ecco è questa conformazione perfetto va bene siamo arrivati alla fine dobbiamo salutarci io vi ringrazio Giuseppe grazie mille davvero del viaggio che ci hai fatto fare lungo la martesana e speriamo di vederti presto lì fraventanti per la nuova edizione sì ma venire anche a vedere a picchiare sull'incudine a vedere le grandi opere che voi costruite in quel di Crescenzago quando vuoi Walter grazie mille ricordiamo per i Free Art Me quando? allora il prossimo venerdì 15 domenica 17 ok ci sono una serie di appuntamenti più di 20 sparsi in tutta quanta la città dove l'idea è quella di far conoscere il toponimo del territorio attraverso i beni artistici architettonici paesaggistici e museali perché noi abbiamo proprio c'è stata i primi di marzo la musea WIC dove abbiamo visto questo centinaio di musei ma questi musei rimangono ce ne sono 26 nel territorio periferico dal museo della macchina da scrivere abbiamo il museo dei popoli delle culture qui in piazza Lelotto insomma ce ne sono tanti abbiamo il museo di Don Gnocchi anche il museo di Don Gnocchi anche lui in quest'anno partecipa alle giornate per i Free Art Me quindi un personaggio importantissimo dal punto di vista umano sociale ecclesiale come Don Carlo Gnocchi ricordato attraverso quelli che erano i suoi strumenti e quindi la Topolino e quant'altro quindi tutti chissà se un giorno faremo loro il museo anche di Giuseppe Bresciani con i suoi strumenti no ci pensiamo avanti ci pensiamo avanti Giuseppe va bene ci pensiamo un po' perché già era un po' così sul libro chissà se gli proponiamo un museo no no Giuseppe ci pensiamo dopo va bene no ma io ho ancora trezzi che usavo bene bene va bene grazie mille Giuseppe grazie Walter grazie a voi che ci avete seguito da casa ci vediamo al prossimo appuntamento di Focus Periferie